ciao a tutti oggi prepareremo le frittadine con piselli il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono cipolla olio evo pisellini uova fontina prezzemolo parmigiano sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i piselli e cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere le uova il pepe il sale il prezzemolo il parmigiano e la fontina e azionare il bimbi per 10 secondi anti orario velocità 3 trasferire il composto in pirottini per muffin cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 20 25 minuti le frittatine sono cotte serviamole frittatine con piselli grazie e alla prossima ricetta frittatine con piselli frittatine con piselli frittatine con piselli ragazzini con piselli